Inizia il torneo! No, tu stai preparando quello che... Ah no, sono i giri di prova, scusate! Tanno al tiro! Alecca al tiro! Canestro! Chi l'approccio? Falchendurm! Che falchendurm? Forza madonna! Falcherebast! Oddio! Ma che Giulia! Ma che schifo! Ma che Giulia! Ma che schifo! Dai, tiro, tiro! Sì! Guardate cosa sta preparando qua la nostra inviata! Un toast con caponata e ricolta! Sto sboccando sopra il tosto a poco! Spettatori, numeri 1! Pesco di cioccolato! Pesco di cioccolato! Bellissimo, bellissimo ragazzi! Ok, inizia il torneo! Inizia il torneo! Io faccio! La conta! Dano all'inizio! Pesco di cioccolato! A quanto ti arriva? No, ho chiesto se tu quei canetti non lo faccio mangiare! Ti lo faccio! Aspetta, aspetta! Ti vuoi preparare le cose! Ciarutchi, pupicciosi! No, 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 no! Chi non fa canestro mangio finché non finisce! No, hai capito? Se io lo faccio devi mangiare tu! No, no, no! Un po' è troppo complicato! Si sbaglia mangia, no? No, 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 no! E aprite la sinagra! Allora, tiri tu! Allora, tiri tu! Non abbiamo droga quindi! No, 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 no! Perché? Non fa? No, 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 no! Ti fai che non lo faccio! Io lo faccio mangi! Mangia! Che cosa c'è? No, no, no! Che schifezza! Che schifo! Che schifo, che schifo ragazzi! Tano al tiro qui! Alec al tiro! Vabbè! Se non lo fai mangi! Grande Tano che si risparmia la mangiata! Ha già stato morto! Lo sai cos'è? Tano, viaggio! E Alec sbaglia! E Alec! Morto dal tramezzino schifoso! Piccolo! Piccolo! Viaggia! Guardate la faccia! È insustata! Vaffa mia! Che schifo! Ha fatto un tosto con caponata... Caponata ricotta e cioccolato! C'è una... Infatti è una punizione mangiare! Ma come è Tano? Non si trova più la moleca! Come è buona? L'ha mangiato pure Tano già! Ehm... Che schifo! Che schifo! L'ha porco Dio! In mezzo alle due! Eccolo! Al tiro Alec! E sbaglia! E sbaglia! È un animo! Che schifo! Dai! Tano al tiro! Sì! E sbaglia! Non mangia nessuna ragazzi! Sbagliano tutti e due! Primo tiro Tano! Ma è iniziato lui! Iro di Alec! Iro di Alec! Iniziale ragazzi! Iniziale! Capisce! Ma che inizia lui? Ma che inizia lui? Se aveva iniziato lui poco fa! Ma mangia! Faccia di merda! Guarda qua! Compa! Stanno mangiando caponata ricotta e cioccolato! Chi è? Buonasera! 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 Ma come cazzo te vai la mira tu! Solo per alcune cose ammirata! Ma che sì! Ma quello te lo aspera! Sshh! Sshh! Questa è delico! Alla madonna! Guardatelo signori! Guardatelo! Tira faccia di merda! Ma che vuoi fare? Mangia con io! E fai il terzo molto per tanto! Mentre Alec è ancora uno ragazzi! Che schifo! Al tiro Tano! Tano sbaglia! Alex segna Tano manco! Ricotta nel mento! Tano ha ricotta nel mento! E Alex segna ragazzi! Tano! Quarto morso per Tano! Sembrava una giocata seria all'inizio! No! Appena ha sbagliato il colore! Sembrava una giocata seria e invece sta mangiando solo Tano! Come la birra? Come la birra? Ma sono andata a otterire! Infatti! Go! Mentre fatti! Tano sbaglia! Non mi muovete! Non muovete il cameraman per favore! Vai vai vai! Poi! Questa è per lui! Ehi la! Ha dedicato a me ragazzi! Mi ha mangiato! Tano viaggia! Mangia! Faccia di cazzo! Questo è nostro! Questo! Invece questa! Questa invece è per Frax! Il cioccolato! È per Frax questo! Questa è cioccolato! Che bello! Sì! Guarda! Vai! Tano sbaglia! Questo è per Frax! Ok! Frax! È sbagliato! No! No! Questa è per Frax! Oh! Frax! Frax! Tu! Ti tieni con il tiro la faccia e tu non lo vedi! Tanto ti riempire le prese che hai! Mangia! Il cioccolato! Sesto morso per Tano ragazzi! Sesto morso! Va bene! È arrivato già a beccare il pezzettino di cioccolato dal centro del toast! No! Toccavano niente! Nullo! Nullo! Tiro nullo! Tano al tiro! Non hai paura! Ragazzi si prega il silenzio! È Ale che conosce l'hance! Conosce l'hance! Intorno te lo sto facendo! Tano al tromorso! Bravissimo Tano! Intorno me lo sto mangiando! Non lo manzerai! Tano al tiro! Questa sì! Tano al tiro! Grande Tano! Tano al tiro! Tano al tiro! Grande Tano! Tano se Tano segna Alec terzo morso! Nooo! C'è un tan deficiente Tano! Ancora Tano al tiro! Niente! Alec! Grande Alec! Ma chi c'è ragazzi? Ma io non ho mangiato più di cioccolato! Altro morso per Tano! Altro morso per Tano! Non lo vuole mangiare intero! Nooo! Che schifo! In chi andiamo a fare 26! Se non lo pare! Tanto non solo lui la mangiavo dalle due morso! È vero! Finora siamo otto a due! Boh lo stesso! Siamo otto a due per Tano! Per Tano! Per Tano! Per Tarale! Va bene nel senso! Per Tano che ha mangiato... 8 morso per Tano! 8 morso per Tano! Tano sbaglia! Non ha morso! Non ha morso per Tano ragazzi! Lucia ha morso! Dopo di questo c'è il morso col cioccolato! Che schifo! 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 Merda! Tano è di... Ma è anche chifo! Che schifo! Che schifo! Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Tano sbaglia! Alec ragazzi! Il tiro della vittoria! Ha in mano il tiro della vittoria ragazzi! La dedica a tutti i cioccolati del mondo ma soprattutto a lei! No! Ho mangiato il suo petto! E Alec vince ragazzi! Ultimo morso per Tano! Definitivo! Col cioccolato! Che segna il trionfo di Alec! Il trionfo di Alec tutto in questo morso! Mangia! 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 Mangia sacco di merda! Devi mangiarlo! Dai! Dipendilo compasso! Tano devi mangiarlo! Ma perché facciamo questo? Tano mangiare! Mangia! Ma tu convertiti al signore! Che voglio! Ma il signore ti vuole sbagliare! Dai mangiare! Ma il signore è proibito di mangiare il cioccolato di Alec! Mangia! Ma fa schifo! Ultimo morso di Tano che segna il trionfo di Alec! Ma guarda! In genere in bocca e basta! E mangia porco Giuda! Ha detto Giuda ragazzi! Filmiamola! Ecco a posto! Dai avanti! Mangia! Tano mangiare! Che stifesta ragazzi! La cosa più oceana di questo mondo! Segna la vittoria di Alec! E grande giocata fra i due! E allora! Abbiamoci fatto!